Allora, sentiamo un po' che cosa ci dice Lutero circa la necessità di fare un matrimonio casto, un matrimonio sempre secondo la volontà di Dio. Fu accusato da alcuni di essere a favore, diciamo, del tradimento all'interno del matrimonio. E lui in questo testo, che si intitola Della vita matrimoniale, scritto nel 1522, cinque anni dopo la pubblicazione delle famigerate tesi, vediamo che cosa consiglia ad una donna. Allora, sostanzialmente la posizione era questa. Lui dice, quando c'è una donna che sposasse, sto traducendo un po' liberamente, casualmente un uomo che viene a scoprire essere impotente. Quindi questa donna ha sposato un uomo e questo uomo si scopre poi essere impotente. E allora, se non dovesse, non potesse pubblicamente prenderne altri, dice Lutero, perché mai potrebbe prendere altri, visto che c'era e c'è per la Chiesa l'indissolubità del matrimonio, non si capisce. Allora dice, se non vuole fare qualcosa contro il matrimonio, ah, perché lui gli consiglierebbe anche di fare qualcosa contro il matrimonio, quindi sta consigliando l'adulterio. Allora, allora, cosa consiglia di fare il buon Lutero a questa donna? Allora, deve andare da quest'uomo e dire, siccome tu non puoi ovviare ai tuoi doveri matrimoniali, in quanto che abbiamo scoperto che sei impotente, e mi tradisci del mio giovane corpo, senti un po' cosa pensa Lutero, c'è un obbligo, un obbligo, eh, di voler bene al giovane corpo di questa donna, e allora metti, metti attenzione, metti a rischio, eh, io a pericolo l'onestà del mio onore e la mia anima, eh, qui non avere rapporti sessuali è mettere a rischio l'onestà e l'onore della mia anima, e allora, siccome di fronte a Dio non c'è più matrimonio tra noi due, allora permettimi che io mi sposi con tuo fratello, qui Lutero probabilmente pensava di essere nel mondo ebraico, oppure con un vicino parente. Io che io abbia un matrimonio, ovviamente, segreto, e tu mantieni il nome, quindi puoi dare il nome al tuo erede, che erede non è, ovviamente, no? E quindi ti devi lasciar tradire da me, così come tu, senza la mia volontà, mi hai tradito. E l'uomo, dice Lutero, ha il dovere di essere d'accordo con questa cosa, permettere alla donna che possa, insomma, soddisfare l'obbligo matrimoniale e di avere anche dei figli. Se, invece, quello non vuole, allora lei se ne deve andare e liberarsi dal vincolo matrimoniale. Questo consiglio l'ho dato quando ero ancora prudente, adesso con quest'uomo sarai molto più violento, dice il buon Lutero.